Ieri in Consiglio regionale è passata una modifica ad una legge regionale gravissima che impatta direttamente sull'istituzione e la gestione dei mercati generali, ovvero dei mercati all'ingrosso. Ebbene, nell'ambito del progetto di semplificazione, ieri si è con un colpo di spugna eliminato il vincolo della partecipazione maggioritaria del pubblico e si è aperta la partecipazione indiscriminata e senza limiti ai privati. Perché questo è grave? Perché i mercati all'ingrosso sono un servizio pubblico e perché evidentemente la presenza del pubblico in posizione maggioritaria garantisce una serie di cose come per esempio la concorrenza, ovvero evitare che i privati facciano cartello tra di loro per aumentare i prezzi. Tutelano ovviamente la qualità del prodotto e quindi la tutela del consumatore. Tutelano cioè la salute pubblica e la sicurezza. Ebbene tutto questo con un colpo di spugna è stato eliminato. Da domani i privati potranno entrare e acquisire anche il 99,9% delle quote di gestione e di istituzione dei mercati. Questo per noi è gravissimo perché questo ovviamente non tutela i cittadini, non tutela la qualità del prodotto e naturalmente aumenta i rischi di infiltrazione mafiosa nella gestione dei mercati che si sa purtroppo sono un settore già fortemente infiltrato. Ebbene noi del Movimento 5 Stelle siamo contrari, abbiamo tentato di tutto, abbiamo presentato tutti gli atti possibili e immaginabili, abbiamo fatto capire che era incostituzionale, abbiamo presentato emendamenti che tentavano di riportare la quota maggioritaria ma non c'è stato niente da fare. Evidentemente Regione Lombardia intende prendere questa direzione, in barba alla tutela, agli interessi dei cittadini. Questo soltanto per fare il favore ai soliti speculatori. Noi diciamo no e continueremo a monterare chiaramente questo processo.